Salve a tutti ragazzi, eccoci oggi con un nuovo video ragazzi, ancora siamo qui su Yu-Gi-Oh! 2 Links e ragazzi, anche oggi andiamo a parlare di qualcosa di nuovo, infatti siamo sulla nostra serie Ecco cosa i fan vorrebbero Ragazzi, prima però di iniziare a dire qualsiasi cosa, come tutti i video, voglio precisare che non c'ho nulla in contrario con il gioco, ma che anzi il gioco è ben fatto ma che ci sono semplicemente delle piccolezze che noi fan vorremmo apportare sul gioco e ragazzi, proprio perché fino ad adesso tutte le idee che vi ho proposto vi sono piaciute sempre tutte, me le avete dimostrato sia con i like, sia con i commenti e anche semplicemente guardando il video ragazzi, vi chiedo di condividere questi video ma per un semplice fatto ragazzi, se noi riusciamo a far emergere un po' di più questi video probabilmente chi di dovere potrebbe anche vederli e dire ma guarda un po' questa testa di cavolo ha detto una cosa positiva perché non lo ascoltiamo, potrebbe portarci ad un incremento del gioco e quindi ragazzi, tutto sta a voi e a quanto ci tenete appunto che queste idee vengano apportate quindi mi raccomando ragazzi, condividete quanto più possibile o anche semplicemente se andate a scuola o conoscete amici che giocano a questo gioco dite semplicemente ma cosa ne pensi di questa idea perché non andiamo a supportare quel video che la espone in modo tale che probabilmente verrà apportata questo era semplicemente l'invito che vi volevo fare poi ovviamente ragazzi, sta sempre a voi vanno alle ciance di che cosa andiamo a parlare oggi ragazzi oggi andiamo a parlare di un'altra tematica secondo me importantissima che veramente tutti vorrebbero sul gioco e cioè poter scambiare le carte con gli amici allora, sembrerà detto così una cosa proprio madonna, impossibile, non lo farà non è vero ragazzi, si può fare allora, iniziamo in questo modo perché ci sembra impossibile ci sembra impossibile perché alla fine dei conti chi fa il gioco pensa si fanno altri profili ottengono carte negli altri profili si inviano le carte sullo stesso profilo e quindi non spendono più soldi sul gioco bene, questo non è vero ragazzi prima di tutto gli sviluppatori devono considerare che se introducono gli scambi tra amici e io stesso mi vado a creare, non so, altri tre profili loro devono considerare che il gioco ottiene tre nuovi profili perché con la stessa email non si può fare quindi otterranno comunque nuovi accessi quindi per loro nuovi soldi in più, se io mi faccio un secondo account dovrò giocare sia nel primo account sia nel secondo account e praticamente proprio per questo è come se io fossi proprio una doppia persona e quindi immagina cioè io parlo con chi ha il gioco in mano immagina di raddoppiare i giocatori che hai momentaneamente quindi se adesso sono un milione facendo gli scambi se ognuno di loro si vuole fare un doppio profilo diventano due milioni di giocatori certo, detto così sembra tanto eh ma poi diventa una cavolata non è vero perché gli scambi dovranno essere diciamo ben strutturati e io già ho qualche idea qualche idea quale può essere anche se uno si vuole fare un doppio profilo non è che così alle gemme regalate quando capita sbusta le bustine gli esce la super rara prende e se la invia in un altro profilo no perché appunto uno potrebbe anche fare tanti profili e man mano che ha i regali apre tante buste in tanti profili e cerca così di ottenere quante più carte possibili e comunque non riuscirebbe mai ad ottenere tutte le carte necessarie a meno che non si mette e non gioca seriamente con un secondo profilo cosa che poi può essere utile per chi nel primo profilo ha praticamente livellato al massimo tutti i personaggi e ha fatto al massimo tutte le cose che può fare e quindi veramente ha poco modo di ottenere gemme quindi comunque sarebbe una cosa positiva per chi ha giocato davvero tantissimo ma cosa stavamo dicendo stavamo dicendo appunto che devono essere ben selezionati gli scambi ad esempio prima di tutto penso che per fare lo scambio bisogna essere veramente amici cioè nel senso bisogna avere proprio l'amicizia sul gioco quindi quando andate qui sopra e andate su amici che se si carica ve lo faccio vedere su amici deve esserci appunto la persona ad esempio io qui ho anche qualcuno di voi che mi segue se non sbaglio tipo lo scorpione io clicco non so su di lui e clicco scambio propongo il mio scambio se a lui sta bene lui accetta lo scambio allora questo è per dire che cosa ragazzi questo è per dire che non è che io posso scambiare con quello in Cina sì a meno che non ho l'amicizia vera e propria e comunque io ho detto a tanti di voi che se vogliono possono inviarmi l'amicizia e alla fine ho giusto due tre di voi perché molto spesso le persone come amici vogliono avere appunto solo le persone che effettivamente conoscono ad esempio sotto casa e questo quindi già potrebbe essere un primo intoppo che potrebbe quindi rendere il tutto più possibile per quanto riguarda gli scambi ma non è finita qui perché secondo me bisognerà fare un'ulteriore selezione in modo tale che appunto gli scambi ci devono essere ma devono essere ben strutturati quindi non è che io ti do una carta ultra rara a te e tu mi dai una carta normale ovviamente se ci fosse questo allora la cosa diventerebbe più brutta perché secondo profilo butto le comuni al cesso mi prendo le ultra rare ok bene questo non si può fare perché sarebbe troppo esagerato quindi un ultra rara per un ultra rara una super rara per una super rara già questo ci porterebbe a dover giocare con un secondo profilo ma comunque ci porterebbe a levarci delle risorse nel primo e quindi alla fine dei conti sarebbe un vero e proprio scambio in più non si dovrebbero poter scambiare le carte quelle là che ci vengono date dal personaggio ad esempio golem in granaggio antico che è una delle ultime carte uscite sappiamo che ce ne daranno una quando sblocchiamo il doctor e un'altra quando lo livelliamo quindi il 3x del golem non si può ottenere con lo scambio giustamente uno potrebbe dare il proprio golem e quindi arrivare ad avere il 3x bene tutte queste carte in cui diciamo così non si può avere il 3x non dovrebbero essere scambiabili perché se no a quel punto il gioco viene troppo rivoluzionato e giustamente gli scambi non possono essere inseriti però appunto chi di dovere può fare queste determinate selezioni quindi prende tutte le carte che non esiste il 3x e non le mette come carte scambiabili mentre tutte le altre carte ad esempio quelle che si ottengono livellando i personaggi cioè farmando i personaggi quelle che si ottengono dalle bustine tutte queste carte dovrebbero essere scambiabili e perché dovrebbero appunto esserci gli scambi proprio perché come abbiamo parlato già negli scorsi video ragazzi le bustine costano tantissimo in più c'è questa cazzata fatemelo dire proprio questa cazzata che devo comprare tre volte il box per avere il 3x delle ultra rare ma come già vi ho detto arrivo ad avere il 6x delle super rare e a questo punto ho bisogno cioè sarebbe ottimo scambiare queste super rare in più che io vado a ottenere di una bustina ad esempio con le super rare di un'altra bustina che appunto avrà acquistato un mio amico quindi ragazzi io penso che proprio per queste determinate ragioni e se viene fatto sotto questo aspetto quindi con determinate regole lo scambio può essere possibile e può essere introdotto in yugioh 2 links se anche voi siete d'accordo con me e vi piace questa idea mi raccomando condividete questo video il più possibile fatelo sapere a tutti i vostri amici che giocano a questo gioco e io come al solito vi ringrazio mi raccomando iscrivetevi commentate condividete questo video se il video vi è piaciuto lasciate un like noi ci vediamo con il prossimo bella raga grazie a tutti i nostri amici